Posso procedere a presentarvi il professor Pellegrini che è professore all'Università di Verona e che ci presenterà questa sera il suo libro su Dante, una vita molto interessante perché riuscire a dire qualcosa di nuovo su Dante dopo 700 anni mi sembra veramente particolare invece lui andando a pescare delle fonti poco note, poco analizzate è riuscito a inquadrare la vita in una diversa prospettiva di cui ovviamente lui vi parlerà in modo diffuso quindi io gli do immediatamente la parola e grazie mille per essere qui con noi Grazie a voi intanto dell'ospitalità io devo ringraziare oltre l'Aldus Club nel suo complesso Chiara Nicolini che mi ha seguito, mi ha contattato, mi ha aiutato nell'organizzazione del collegamento, ha preparato questo bel manifesto e poi anche un carissimo amico che fa parte dell'Aldus Club che è avvocato e amicissimo Fausto Lanfranchi che vedo presente ma non vedo fisicamente perché è collegato senza la telecamera, quindi lo saluto, è un amico mio, della mia famiglia da tantissimi anni e quindi ci siamo visti spesso quando io ormai molti anni fa frequentavo l'Università Cattolica di Milano e quindi insomma è una consuetudine di lunga data con Fausto e con la sua famiglia. Nella chiacchierata di oggi vorrei parlare delle biografie di Dante in relazione a quello che ho scritto io per cercare di capire eventualmente che cosa ancora si possa dire di nuovo o di diverso o di antico, ma nel senso di antico e nuovo, ecco, sulla vita di Dante e perché è nata l'esigenza da parte mia di scrivere una nuova vita di Dante In realtà quest'idea di una nuova biografia dantesca ha preso le mosse nel 2017, ecco, come idea ha cominciato a concretizzarsi in quell'anno quando proprio a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana tenne una conferenza dedicata proprio alle ultime biografie dantesche e venivo allora da una conferenza tenuta a Pechino su questo tema e in cui ho cercato, cercavo di mettere in evidenza quelle che secondo me erano gli aspetti un po' più problematici di queste nuove biografie, un nuovo modo di affrontare la vita di Dante che mi lasciava insoddisfatto e però era un modo che incontrava grande successo soprattutto dal punto di vista editoriale perché affidato a case editrici importanti, a nomi importanti che quindi finivano con il trasmettere della figura di Dante un'idea che io non condividevo o meglio che non ritrovavo in quello che leggevo sia dal punto di vista dei testi letterari sia dal punto di vista dei pochi documenti che abbiamo e da qui era nata l'idea di recuperare la lezione degli antichi maestri e di riproporla perché mi pareva ancora valida, soprattutto se supportata da qualche altro elemento di ricerca e parto dunque da qui, cioè parto da come noi siamo stati capaci di coniugare, di vedere, di leggere la vita del poeta nel corso degli ultimi due secoli perché il nostro modo di guardare a Dante cambia continuamente a seconda di come ci poniamo di quelli che sono un po' gli occhiali che noi usiamo per osservare la figura del poeta e prendo le mosse da un saggio bellissimo che forse molti di voi conoscono che è stato pubblicato su rivista e poi ripubblicato in questa bellissima raccolta che probabilmente tutti conoscete, Geografie e storie della letteratura italiana di Carlo Dionisotti ecco sapere che il mio libro esce nella stessa collana in cui è uscito quello di Dionisotti mi fa un po' tremare, però l'editore ha scelto così e io non posso che essergli grato dicevo Dionisotti ripercorreva la fortuna della vita dell'opera del poeta nel corso degli ultimi due secoli e ci faceva vedere come spesso il nome di Dante fosse stato usato o coniugato dai nostri padri in modo diverso per le necessità del momento. Cito un passaggio molto bello del contributo Dionisotti in cui con riferimento all'epoca risorgimentale Dionisotti dice l'impresa dell'indipendenza e dell'unità nazionale richiedeva il mito di un poeta che ispirasse i politici, gli uomini responsabili della cospirazione e dell'azione e che concordemente ispirasse la nazione tutta. Ecco quindi Dante come padre della nostra nazione nascente all'epoca del risorgimento, colui che avrebbe teorizzato l'unità d'Italia nelle sue opere ma anche l'unità della lingua, pensiamo al ruolo della commedia, dei vulgari eloquenzi, ecco la figura di Dante e la sua opera venivano sfruttate come retroterra politico ideologico per la neonata o nascente Italia e in quest'epoca la figura del poeta era stata letta nei modi più diversi. Prendiamo una delle prime biografie non canoniche di Dante scritta dal storico napoletano Carlo Troia del veltro allegorico di Dante 1826, credo che pochi di voi l'abbiano letto e qui Troia scrivendo questo contributo che ancora oggi è di grande interesse dal punto di vista storiografico ci diceva che Dante fece della commedia il serbatoio delle sue vendette politiche Dante collocava all'inferno, al purgatorio, al paradiso i vari personaggi che era venuto incontrando nella vita o nelle proprie letture a seconda diciamo così delle sue preferenze di carattere politico era una lettura appunto molto politicizzata ma si spiega a quest'epoca di carattere diverso e la vita di Dante è scritta a fine degli anni 30, nell'Ottocento da Cesare Balbo qui Dante diventa un Dante neoguelfo, nonostante tutto quello che scrive bene o male della chiesa nelle sue opere, nel suo poema, comunque Dante avrebbe espresso diciamo così una sostanziale adesione ai valori e ai dettami della chiesa, un sostanziale rispetto quindi poteva comunque fungere come figura rappresentativa anche della linea politica del neoguelfismo vedete come venisse tirato per la giacchetta da una parte o dall'altra a seconda delle necessità e quando è che si comincia, cominciamo ad accostarci alla vita e all'opera di Dante con una modalità meno politica e più scientifica dobbiamo tenere presente che prima dell'unità d'Italia l'università italiana sostanzialmente non esisteva non c'era una realtà accademica e soprattutto non c'era una realtà accademica minimamente paragonabile a quelle d'oltre Alpe soprattutto alla Germania in Germania ormai era pienamente affermato il metodo filologico e la letteratura classica ma anche quella moderna e medievale venivano studiate con dei criteri scientifici moderni in Germania era nata la linguistica storica tanto per dire, tanto per ricordare una delle discipline più importanti che ci permettono di studiare la letteratura italiana antica in Italia si era molto indietro nel 1865 stiamo muovendo i primi passi verso questo modo di avvicinarci alla letteratura italiana scientifico appunto, filologico piano piano però anche la realtà accademica italiana acquista vigore e molti di quelli che saranno professori universitari in Italia vanno a formarsi in Germania vanno a studiare da DITS vanno a studiare da Gröber e tornano in Italia molto ben attrezzati e trasmettono a loro volta ai loro studenti questa loro preparazione cioè viene formandosi piano piano una classe accademica italiana ben preparata attrezzata dal punto di vista degli studi linguistici e anche filologici e questa nuova classe accademica può finalmente accostarsi allo studio di Dante con una strumentazione che per quei tempi era modernissima non c'è più quindi un approccio diciamo così sentimentale o politico ma c'è un approccio che potremmo definire più scientifico alla figura, all'opera di Dante si leggono i documenti si fanno a cercare i documenti in archivio nascono le prime ipotesi del codice diplomatico dantesco basti citare per tutti il nome di uno dei più grandi filologi della nostra storia accademica cioè Pio Reina che fu l'editore del De vulgari eloquenzia 1896 la prima edizione critica diciamo vera e propria secondo il metodo filologico di Karl Ackman di un'opera della nostra tradizione letteraria quindi in Italia non molti anni dopo una ventina d'anni dopo l'unità comincia a fermarsi questo nuovo modo filologico di avvicinarsi all'opera di Dante e però questo modo si nutre anche di un'altra gamba di un altro cespite che è la cosiddetta scuola storica cioè l'erudizione e siamo ai nomi di Rodolfo Renier e Francesco Novate quindi la scuola storica italiana che aveva mosso i primi passi a partire dal Carducci ma poi si era distaccata annovera tra le sue file maestri che hanno l'abitudine di andare d'archivio a scavare i documenti d'archivio compresi quelli di interesse dantesco e del contesto storico in cui Dante è vissuto quindi filologia ed erudizione contribuiscono piano piano a creare un approccio alla vita e all'opera del poeta scientificamente molto avanzato che produce dei risultati eccellenti l'Italia che fino a un paio di decenni prima era molto arretrata rispetto alla Germania ma anche rispetto agli anglosassoni faccio il nome di Edward Moore il grande reverendo britannico che aveva pubblicato nel 1894 tutta l'opera di Dante per le edizioni oxoniense tutta l'opera dantesca si leggeva con un testo criticamente sorvegliato non in Italia ma in Inghilterra o altri filologi inglesi come per esempio Wickstead e Gardner che pubblicano per la prima volta alla corrispondenza poetica tra Dante e Giovanni del Virgilio erano cose che in Italia erano ancora di là da venire dicevo nonostante ciò gli italiani recuperano molto rapidamente il terreno perduto e molto presto da allievi diventano maestri ecco dopo Reina la generazione di Barbie e di Parodi è una generazione pienamente matura siamo tra fine ottocento e primi del novecento i filologi italiani ormai non solo hanno raggiunto i loro colleghi d'oltrampi ma li hanno superati e questo è un dato da tenere presente un nuovo modo di lavorare sulle opere di Dante ma anche un nuovo modo di lavorare sulla biografia dantesca perché questo approccio rinnovato e scientificamente fondato alla vita e all'opera di Dante coinvolge anche la ricostruzione biografica quindi non più le biografie politicizzate di Balbo o di Carlo Troia ma finalmente una biografia documentatissima come quella di Nicola Zingarelli pubblicata nel 1904 una vita di Dante che contiene ancora qualche ingenuità ma che si fa forte proprio dello scavo dei documenti ed una approfondita conoscenza delle opere del poeta siamo nel 1904 siamo ai primi del Novecento del 1907 l'edizione critica della vita nuova prodotta da Michele Barbi anch'essa seguendo il metodo lachmaniano della genealogia dei manoscritti siamo all'apoteosi siamo al punto più alto della scuola filologica italiana finalmente sia per quanto riguarda la biografia sia per quanto riguarda le opere l'Italia potremmo dire detta legge nasce, è nata la società dantesca sono nate tante altre iniziative importanti e possiamo dire che si sta già stagliando all'orizzonte l'anniversario del 1921 come sappiamo però purtroppo prima di arrivare al 21 ci sarà il primo conflitto mondiale ecco già prima che si profilassero all'orizzonte i tristi presagi della prima guerra mondiale la scuola filologica italiana però aveva cominciato un lento declino un lento declino dovuto in prima istanza al fatto che come sappiamo stava sorgendo un astro che corrisponde al nome di Benedetto Croce l'idealismo crociano piano piano stava acquistando terreno dentro e fuori il mondo accademico il punto più alto diciamo di questa ascesa crociana è il volume di Benedetto Croce del 1921 dedicato proprio alla poesia di Dante ma un volume che ha avuto una preparazione piuttosto lunga alle sue spalle e d'altro canto anche lento affermarsi del nazionalismo fa sì che Dante venga di nuovo arruolato richiamato alle armi se prima era servito per gli ideali del risorgimento adesso viene invocato come genio del nazionalismo cito ancora Dionisotti questo bellissimo passaggio del suo saggio dice Dionisotti Dante si era fermato aspettando a Trento ora l'autorità profetica del suo poema veniva adottata per legittimare le nuove frontiere strategiche del Brennero e del Quarnaro lo sappiamo che Dante cita il Quarnaro no? l'irredentismo quindi l'ampliamento la rivendicazione dei territori di lingua italiana viene formulato attraverso l'invocazione del nome del poeta quindi Dante che diventa il campione del nazionalismo davvero dice Dionisotti si rischiava si rischiava di cadere di nuovo nelle mani di Dante poeta nazionale cos'è che ci salvò da questo rischio purtroppo facendoci precipitare in una situazione più tragica l'avvento del fascismo che come sappiamo dovendo scegliere tra Dante e il mito dell'antichità dell'antica Roma classica alla fine si orientò sul mito della Roma imperiale perché meglio rispondeva alle esigenze del regime e Dante in una certa misura si salvò si salvò e Dante si salvò la classe accademica i filologi si isolarono soprattutto loro un po' ripeto perché pian piano cominciava a venire meno anche la libertà di critica scientifica perché come sappiamo i tempi non erano più quelli di prima e anche lo dice Dionisotti con molta chiarezza per l'incorregibile divergenza della cultura accademica italiana dalla letteratura militante cioè Dionisotti individua nella classe accademica italiana ha una certa tendenza a ritrarsi a rinchiudersi su se stessa nel momento in cui c'è bisogno di combattere per un ideale ecco la cultura accademica fa un passo indietro ha fatto allora di fatto dobbiamo constatarlo un passo indietro qualcuno si è schierato apertamente per la linea nazionalista altri si sono ritirati in buon ordine hanno rinunciato per certi aspetti alla partecipare in modo militante anche attraverso un dibattito che investisse gli aspetti della letteratura gli anni dei regime sono stati anni molto duri anni se vogliamo così di aureo isolamento all'interno del quale la linea filologica in modalità semiclandestina ha potuto procedere pensiamo proprio al nome di Barbie colui che nel 1907 aveva pubblicato l'edizione critica della vita nuova Barbie non smise di lavorare peraltro era un intellettuale perfettamente inserito nel regime fascista si occupava di altre cose che non proprio quelle del regime lui lavorava sulla filologia Barbie continuò a lavorare in modo eccellente ma rappresentava una figura diciamo così quasi isolata intorno a lui ormai erano pochi coloro che credevano ancora nella filologia i concorsi accademici venivano vinti dai crociani erano loro che occupavano le cattedre universitarie da punto di vista a questo punto di vista ci fu un secondo scollamento dunque tra la filologia l'erudizione e gli studi danteschi quindi un nuovo diciamo così distacco un nuovo distacco che fu in effetti per certi aspetti molto pesante per certi altri anche benefico perché questo isolamento permise a qualcuno di lavorare indisturbato la biografia di Michele di Dante scritta da Michele Barbi che esce nel 1933 come volume separato ma in realtà era una voce dell'enciclopedia tre cani è il prodotto più lucido il canto del cigno di questo periodo se vogliamo dire così è una biografia molto asciutta molto stringata che contiene tutto l'essenziale niente a che vedere con i volumoni di Zingarelli ma che rappresenta un po' il succo estremo di questa scuola filologica che ormai si è ritirata siamo ripeto nel 1933 un'altra biografia importante viene pubblicata pochissimi anni prima il 1930 questa volta da Umberto Cosmo che era un grandissimo storico della letteratura che però rappresentava diciamo così l'ala politica opposta a quella di Barbi Barbi era un fascista dal punto di vista del credo politico Cosmo invece era un comunista e per questo non era molto amato tra l'altro da Barbi entrambi però produssero due biografie eccellenti e questo ci fa vedere anche un po' questo distacco tra la cultura militante e la cultura erudito filologica questo questa clandestinità quanto dura la clandestinità dura parecchio perché perché in questo periodo e fino al primo secondo fino al secondo dopoguerra la filologia non riesce a trovare spazio adeguato all'interno dell'accademia italiana pensiamo a figure di prima grandezza che sono costrette a lasciare l'Italia pensiamo a figure di prima grandezza che nel frattempo ci lasciano nel 1938 muore Vittorio Rossi nel 48 Santorre de Benedetti nel 1939 Contini pubblica Gianfranco Contini più grande filologo romanzo del novecento pubblica l'edizione commentata delle rime di Dante che costituirà un modello per tutte le edizioni successive però badate che Contini nel 1938 lascia l'Italia e va a insegnare a Friburgo quindi il suo magistero è un magistero che sta fuori dall'Italia Giuseppe Billanovic più grande studioso di Petrarca del novecento lascia l'Italia anche lui va prima al Warburg e poi anche lui a Friburgo Augusto Campana grandissimo filologo dell'umanesimo lavora sì in Italia ma la biblioteca vaticana non ha nessuna possibilità di incidere sulla cultura accademica italiana quindi vediamo che c'è ci sono alcuni grandi maestri ma questi maestri non hanno un ruolo pubblico se vogliamo nell'accademia italiana Billanovic addirittura nel 48 partecipa a un concorso per una cattedra a Cagliari e viene sonoramente bocciato da una commissione presieduta da critici idealisti era evidente che il destino di molti era quello in quello stesso concorso avrà bocciato anche Vittorio Branca tanto per fare due nomi di prima grandezza della nostra filologia quindi vediamo che la cultura accademica di stampo filologico nel primo nel secondo dopo guerra sta ancora nelle retrovie quando è che riprenderà vigore riprenderà vigore a partire degli anni sessanta grosso modo a partire degli anni sessanta congresso della commissione dei testi di lingua a Bologna la filologia rimette il naso avanti Contini è rientrato in Italia Billanovic è rientrato in Italia ottengono cattedre universitarie cominciano a insegnare cominciano a creare delle vere e proprie scuole lo stesso Campana che poi sarà chiamato a insegnare a Pisa Contini viene eletto presidente della società dantesca e quindi anche all'interno di questa istituzione così importante crea una scuola il suo posto sarà preso da un altro grande filologo Francesco Mazzoni proprio in quegli anni Contini affida l'edizione critica della commedia un altro grande filologo Giorgio Petrochi che la portò a termine nel 1967 lo stesso Petrochi finalmente forte della sua conoscenza profondissima del poema di Dante scrive lui una biografia di Dante che entrerà nell'enciclopedia dantesca come voce biografica del poeta nel 1978 e poi nell'83 verrà pubblicata in volume quindi vediamo che dal 60 negli anni 60 in poi c'è una vera e propria riscossa della scuola filologico erudita che tanto era stata silente prima quanto rialza la testa in tutto il suo vigore a partire ripeto dagli anni 60 del 900 e poi gli anni 70 nel 1968 c'è l'edizione critica dell'acquesto di acqua e terra eccetera 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 insomma ormai la filologia si è affermata e ha prodotto i suoi frutti più importanti ripeto cito solo questi due pilastri così che sono un po' i simboli di questa rinascita l'edizione critica della commedia di Petrocchi del 67 e la vita di Dante dello stesso Petrocchi del 1978 1983 ecco con la vita di Dante e di Petrocchi sembra chiudersi un ciclo nessuno più di lui avrebbe potuto produrre una biografia così ricca di dettagli così documentata insomma sembrava che il grosso del lavoro fosse stato fatto certo c'era da pubblicare c'erano da pubblicare ancora le edizioni critiche delle altre opere di Dante il convivio sarà stampato dalla Geno nel 95 nel 2002 le rimedi di De Robertis ma insomma ormai nessuno metteva in dubbio che la filologia fosse la principale indiziata ad occuparsi della vita e delle opere di Dante sembrava dunque tutto tranquillo quando nel 2005 vennero pubblicati venne pubblicati due volumi di un importante storico della letteratura italiana Umberto Carpi intitolati La nobiltà di Dante Carpi in questi due volumi affascinanti introduceva o riproduceva un vecchio nuovo modo di occuparsi della biografia di Dante in sintesi senza portarvi via troppo tempo qual era la teoria di Carpi la teoria di Carpi era che la commedia ma non solo la commedia anche le opere minori di Dante fossero interpretabili e leggibili come un instant book cioè Dante nelle terzine della commedia registrava possiamo dire quasi in presa diretta quelli che erano gli avvenimenti della sua biografia e gli avvenimenti letti in chiave politica faccio un esempio tanto per capirci nel canto ventisettesimo dell'inferno Dante come sappiamo condanna Guido da Montefeltro tutti noi sappiamo che Guido da Montefeltro fu per lunghissimo tempo uno dei principali condottieri militari assoldati dai Ghibellini era un po' il martello dei Ghibellini e sappiamo anche dei suoi lunghissimi contrasti con la chiesa e con l'esercito della chiesa e con i Guelfi soprattutto i Guelfi neri ma non solo Guido da Montefeltro di Guido da Montefeltro Dante nel convivio aveva tracciato un ritratto estremamente lusighiero e poi nella Divina Commedia lo infila in fondo all'inferno tra i consiglieri fraudolenti uno dei peccati peggiori che si potesse commettere come mai Dante cambia opinione in questo modo si chiede Carpi beh beh certo perché in quel momento Dante dal punto di vista politico dopo essere stato esiliato sta cercando di riguadagnare la fiducia di chi lo ha cacciato da Firenze cioè i Guelfi neri e per dichiarare il proprio cambio di prospettiva politica infila in fondo all'inferno colui che poco prima qualche anno prima aveva lodato Guido da Montefeltro perché Dante mette Guido Montefeltro all'inferno è perché in questo momento lui sta tentando di riguadagnare la fiducia dei suoi antichi nemici Guelfi neri che l'hanno cacciato da Firenze e lo fa dichiarando la propria fede politica cambiata mettendo all'inferno Guido da Montefeltro sto semplificando ma è per farvi capire questa modalità di lettura è in una fase politica che registra immediatamente nelle terzine della commedia di Inferno 27 c'è un parallelismo dunque molto stretto tra la vita del poeta e quello che lui scrive e questo anche secondo Carpi ci permette grosso modo di datare quelle che sono le linee cronologiche del poema se Dante comincia a rivedere la sua posizione dice Carpi intorno al 1306-7 è presumibile che quel canto dell'inferno risalga a quell'epoca lì ripeto sto un po' semplificando ma ho bisogno di farmi capire e questa modalità di lettura da instant book coniugata in questi volumi di Carpi era un po' difficile da digerire perché Carpi scriveva in modo difficile e quindi pochi anni dopo un grande amico di Carpi compianto da tutti noi grande studioso storico della letteratura grande studioso Marco Sant'Agata fece propria l'idea di Carpi e la coniugò attraverso una bella biografia intitolata Dante il romanzo della sua vita in questa biografia pubblicata da Mondadori che ha avuto una buona diffusione Sant'Agata rilanciava quest'idea dell'instant book quindi Dante che diciamo così colloca i personaggi distribuisce diciamo colpe pene salvazione nell'aldilà facendo di questa distribuzione il veicolo della proprio messaggio politico del momento cioè la commedia registra le posizioni politiche di Dante nell'immediato esattamente secondo le modalità che vi ho illustrato fino adesso il libro di Sant'Agata rispetto a quello di Carpi aveva il vantaggio di essere scritto in una lingua molto più scorrevole di essere molto più accessibile e ha avuto un ottimo successo in questo modo si riproponeva dunque un Dante che sostanzialmente era un Dante in tutto e per tutto assimilabile possiamo dire così a tutti gli uomini del Medioevo cioè un Dante che si comportava come chiunque di noi si sarebbe comportato un Dante che al bisogno era disponibilissimo a rinnegare la sua fede politica se questo gli avesse consentito un rientro non troppo poco onorevole in patria era disposto diciamo così a mercanteggiare la propria fede politica la propria integrità morale purché questo gli consentisse in qualche misura di vincere le condizioni disperate dell'esilio vedete che a un Dante è tutto diverso da quello del risorgimento o da quello del nazionalismo lì avevamo un Dante che tetragona i compi di ventura pur di di non cedere ai compromessi politici era disposto a farsi esiliare abbandonare la famiglia abbandonare gli averi vivere in povertà ma giammai sarebbe avrebbe accettato qualsiasi forma di compromesso questo invece dipinto da Dante da Sant'Agata e da Carpi era un Dante uomo comune di tutti i giorni potremmo dire un Dante pienamente figlio del Medioevo un'epoca in cui questi cambi di partito politico erano frequentissimi l'uomo della strada doveva sopravvivere in qualche misura doveva trovare un ubiquin system e lo faceva nel modo in cui poteva farlo ecco no un legame dunque molto stretto tra il contesto storico la società medioevale quello che la società medioevale imponeva agli uomini del Medioevo e le scelte che ogni singolo individuo in quella società per sopravvivere era costretto a fare capite che questo modo di leggere la vita di Dante in una qualche misura stabiliva un contatto molto stretto tra il contesto storico e i condizionamenti che questo contesto determinavano sull'individuo l'individuo che si trova immerso in una società ferrea che lo costringe a cedere a determinati compromessi pur di portare a casa come si dice la pagnotta quindi uno stretto legame tra la società in cui l'individuo è immerso e i condizionamenti le storture le crudezze le ingiustizie se vogliamo pensiamo all'esilio di Dante stesso che questa società impone e diciamo così con modalità quasi deterministica i comportamenti che il singolo individuo è costretto ad assumere ora se noi riusciamo a mettere a fuoco questi due elementi cioè il ruolo condizionante della società e il comportamento dell'individuo cominciamo a capire che all'interno di questo schema si aprono delle enormi praterie per chi si proclama esperto conoscitore della società medievale ma chi meglio dello storico del medioevo può aiutarci a capire i comportamenti del singolo individuo o se non del singolo individuo dei gruppi di individui all'interno della società medievale chi meglio dello storico medievale può spiegarci questo rapporto di causa effetto tra società e individuo anche in relazione a Dante ed infatti noi registriamo in concomitanza col diffondersi di questo nuovo modo di leggere Dante proposto da Carpi prima e da Sant'Agata poi uno crescente interesse per la figura del poeta da parte degli storici del medioevo con una lunghissima serie di saggi anche molto pregevoli tesi a ricostruire il contesto storico in cui Dante si è trovato a vivere prima a Firenze e poi nel corso dell'esilio una serie di studi molto importanti per esempio che analizzano di nuovo tutte le carte processuali il processo che ha portato all'esilio del poeta e che producono tutta una serie di nuove conclusioni che tutto sommato supportano l'idea che Dante sia un uomo e qui cito l'ultimo libro di Alessandro Barbero profondamente immerso nel medioevo e che di questa immersione porta con sé tutte le diciamo i condizionamenti chiamiamoli così mentre dunque mentre gli storici del medioevo della generazione precedente pensiamo a un grandissimo come Gino Arnaldi nell'occuparsi di Dante stavano diciamo così sempre fuori dal perimetro dei dantisti Arnaldi nei suoi saggi dice sempre sì io propongo queste modalità di lettura ma io non sono un esperto di Dante e mi fermo diciamo così all'illustrazione del contesto storico e non entro nel merito delle questioni perché non conosco in modo così approfondito la figura di Dante diciamo mentre da un lato abbiamo questa posizione fino a una generazione precedente gli storici medievali dell'ultima generazione invece entrano uso un termine calcistico a gamba tesa anche sulla figura di Dante e provano a spiegare spesso con tratti secondo me eccessivamente deterministici i comportamenti del poeta in relazione ai condizionamenti della società in cui vive anche qui sto un po' semplificando però ho necessità di farmi capire ecco dunque che in tutti gli ultimi studi che noi possediamo il ruolo degli storici del medioevo assume diciamo così una consistenza sempre maggiore e moltissimi degli articoli e delle cose prodotte su Dante di maggior spessore in epoca recente sono studi che provengono dal campo dallo stretto campo della medioevistica è produttivo questo modo di lavorare su Dante e io sono partito proprio da una insoddisfazione nei confronti di questo modo di leggere Dante perché ho constatato che se da un lato la ricostruzione puntuale approfondita del contesto storico è fondamentale non si può prescindere da essa non si può nemmeno dimenticare che Dante è stato Dante non è stato un uomo del medioevo come tutti gli altri perché non c'è stato nessun uomo del medioevo che è stato in grado di scrivere la commedia o di scrivere il De Vulgari Eloquenza nessuno ha avuto uno spirito profetico da immaginare che quando i poemi del tipo della commedia venivano scritti in latino si sognò di scriverlo in volgare andando contro tutte quelle che erano le aspettative di un'opera di questo tipo spezzando completamente i vincoli cronologici che erano quelli del suo tempo noi non possiamo prescindere dalla considerazione del contenuto di quello che lui ha scritto per valutare il giudizio che Dante esprimeva sulla sua epoca storica non possiamo fare come se tutto quello che Dante ha detto non fosse stato detto ecco io leggendo questi questi lavori ho pian piano maturato la convinzione che questi miei colleghi estremamente attrezzati sul loro versante in realtà fossero poco attrezzati sul versante della conoscenza delle opere di Dante della tradizione manoscritta e anche di alcuni aspetti delle fonti storiche perché molti conti non mi tornavano molti di queste alcune di queste modalità di lettura messe a confronto con i dati forniti dall'erudizione della filologia che io avevo imparato a conoscere quella di Raina di Barbie di Billanovic non tenevano non tenevano cioè questi lavori non prendevano in considerazione un complesso di fonti molto più ampio rispetto a quelle della documentazione d'archivio medievale che pure è fondamentale e quindi si diciamo così impedivano una lettura più approfondita allora per non parlare solo di cose teoriche vi faccio un esempio che sarà poi l'ultimissima parte della mia chiacchierata perché non voglio portarvi via troppo tempo e condivido con voi un passaggio relativo proprio al primo esilio la prima parte dell'esilio dantesco noi sappiamo che Dante venne esiliato nel 1302 e che molto presto con i fuoriusciti Ghibellini e Bianchi prova a organizzare una vera e propria lotta armata per rientrare a Firenze con le armi e in un primo momento questa lotta armata sembra arridere i fuoriusciti dopodiché si verifica tutta una serie di rovesci militari uno più disastroso dell'altro adesso dicevo provo a condividere con voi queste diapositive perché Dante ripercorre questa fase della sua vita raccontandola per bocca di cacciaguida nel canto diciassettesimo del paradiso lo condivido rapidamente con voi spero che si veda ecco qui spero che riusciate a vederlo confermo io lo vedo si vede ecco leggiamo solo i versi in grassetto cacciaguida predice nel canto diciassettesimo del paradiso a Dante il suo esilio ovviamente l'esilio è già avvenuto come sappiamo no? e dice quel che più ti graverà le spalle dice a Dante sarà la compagnia malvagia e scempia con la quale tu cadrai in questa valle che tutta ingrata tutta matta ed empia si farà contra te quindi i colleghi di esilio si rivolteranno contro il poeta ma poco appresso cioè dopo poco che ci sarà questa rottura tra Dante e i suoi colleghi di esilio ella cioè sono loro i tuoi colleghi non tu n'avrà rossa la tempia questa tempia rossa indica molto probabilmente appunto uno scontro sanguinoso qualcosa di cruento di sua bestialità te il suo processo farà la prova sicca te fia bello averti fatta parte per te stesso quindi loro avranno la peggio e tu che ti sarai messo per conto tuo avrai fatto la scelta giusta questo gli dice cacciaguida e poi gli predice dove si recherà subito dopo essersi separato dai suoi compagni di esilio lo primo tuo rifugio il primo ostello sarà la cortesia del gran lombardo che sulla scala porta il santo uccello quindi gli dice dov'è che andrai tu a rifugiarti appena separato dai tuoi compagni andrai a rifugiarti presso il gran lombardo che sulla scala porta il santo uccello che cos'è a cosa si riferisce Dante ci arriviamo subito qui rapidamente passiamo le tappe dell'esilio di Dante vediamo che subito dopo nel gennaio e marzo subito dopo l'esilio egli si riunisce nel giugno con i fuori usciti a San Godenzo del Mugello nel 1302 e nel 1303 si trova con i bianchi e i ghibillini a Forlì per organizzare le prime campagne militari contro Firenze nella primavera del 1304 quindi siamo l'anno successivo c'è un famoso tentativo di pacificazione compiuto dal cardinale Niccolò da Prato su mandato del nuovo Papa Benedetto Dante scrive l'epistola prima a nome dei cittadini fuoriusciti per favorire la pacificazione tra i guelfineri che stavano a Firenze e i fuoriusciti stessi purtroppo il tentativo di pacificazione va male a quel punto i fuoriusciti decidono improvvisamente di attaccare battaglia ma l'attacco si rivela una disfatta e il 20 luglio del 1304 i fuoriusciti vengono definitivamente sconfitti teniamo presente questa scaletta ecco un po' la mappa d'accordo da Forlì i fuoriusciti si portano ad Arezzo qui Dante scrive la prima lettera per conto dei fuoriusciti che mira la pacificazione la pacificazione fallisce a questo punto i fuoriusciti con l'aiuto dei bolognesi cercano di assalire Firenze però alla lastra subiscono un'atroce sconfitta e qui finiscono le speranze di Dante di rientrare pacificamente a Firenze a questo punto ci dobbiamo chiedere ma chi è il gran lombardo che sulla scala porta il santo uccello chi è che Dante che ospitò Dante a Verona per la prima volta eh dobbiamo tenere presente che i versi della commedia che abbiamo letto ci dicono che Dante si separò dai fuoriusciti e che subito dopo la separazione i fuoriusciti subirono probabilmente una sconfitta militare i più antichi commentatori della commedia Pietro Alighieri eh per esempio nel suo commento Pietro era il figlio di Dante doveva conoscere le cose bene ci dice che il gran lombardo è Bartolomeo della Scala il fratello maggiore di Can Grande che tiene il potere a Firenze fino al 7 marzo del 1304 quando muore allora a questo punto dobbiamo farci una domanda ma se eh il gran lombardo che ospita Dante è Bartolomeo e Bartolomeo muore il 7 marzo del 1304 mh questo dato è in contraddizione con la battaglia della lastra perché da noi sappiamo che i fuoriusciti da cui Dante si è separato vengono sconfitti il 20 luglio del 1304 ora se la battaglia è quella della lastra e Dante si separa dai fuoriusciti poco prima della battaglia della lastra che provocherà la Tempia Rossa eh non può essere Bartolomeo della Scala quello che lo ospita perché era già morto come facciamo a mettere insieme questi due dati o è sbagliato uno o sbaglia Pietro Alighieri oppure c'è qualcosa che ci sfugge a questo punto l'unica soluzione che si può proporre è che Pietro Alighieri si sbagli e che il gran Lombardo che ospita Dante Alighieri non sia Bartolomeo eh ma sia il fratello al boino che succedette immediatamente a Bartolomeo dopo il 7 marzo del 1304 a questo punto i dati quadrerebbero d'accordo perché ci sarebbe la separazione di Dante e dei fuoriusciti poi c'è la Tempia Rossa c'è la battaglia della Lastra del Luglio Dante si è allontanato dai fuoriusciti e viene ospitato a Verona dal boino della Scala e qui arriviamo al punto cruciale perché perché Dante nel convivio nel passo che vi riproduco in questa diapo spero ditemi se non si vede casomai ma mi pare che funzioni tutto bene Dante nel convivio traccia di al boino della Scala un ritratto non molto onorevole dice se nobilis derivasse da Nosco allora al boino sarebbe più nobile di Guido da Castello il che è falsissimo perché al boino sottinteso sottintende Dante non è affatto nobile è un mezzo cialtrone ma come si come si concilia questo durissimo giudizio nei confronti di al boino con l'esaltazione della commedia al boino il gran lombardo che sulla scala porta a salto il cielo e qui veniamo al volume più recente la più recente biografia di Barbero che mi serve come esempio secondo me il libro di Barbero è un libro molto interessante che ha tanti pregi però in alcuni punti ha il difetto di farsi prendere la mano da questo desiderio di fare di Dante un uomo come tutti gli altri Barbero dice il tentativo di risolvere questa contraddizione il fatto che Dante sia stato ospite di Bartolomeo ma che Bartolomeo muore prima della battaglia della lastra dice Barbero ha dato origine a ipotesi fantasiose se la menzione della tempia rossa cioè della sconfitta militare dei fuori usciti va davvero ricondotta alla battaglia della lastra non ci resta che ammettere che l'ospite di Dante è stato al boino ma allora vedete che torniamo al solito schema di partenza se l'ospite di Dante è davvero al boino e dobbiamo riconoscere che Dante mente che Dante ci racconta una storia diversa rispetto a quella che tutti conosciamo scrive in modo tendenzioso perché al boino non era affatto una persona a lui graditare ma adesso si trova a Verona scrive il canto decissettesimo del paradiso deve farsi accogliere dagli scaligeri ecco che al boino che era un lestofante di colpo diventa il gran lombardo vedete come Dante è uomo del medioevo anche lui sottoposto e sotterfugge i compromessi di tutti i suoi colleghi stanno davvero così le cose allora chiudo con queste ultime tre diapo torniamo alla condivisione andiamo a vedere cosa ci dice la documentazione che possediamo è davvero così possiamo davvero leggere questi versi in questo modo il gran lombardo che sulla scala porta il santo uccello a Verona c'è una tomba che ospita proprio l'aquila imperiale sopra la scala e questa tomba è tradizionalmente assegnata a Bartolomeo della scala sono stati fatti degli studi molto puntuali che mostrano come molto probabilmente questa sia la tomba di Bartolomeo e solo la famiglia il ramo della famiglia scaligera di Bartolomeo portasse questo insegna fatta in questo modo con l'aquila sopra la scala esiste una sola altra tomba fatta in questo modo con questo stemma quella di Giovanni della scala che vedete riprodotta qui sempre tra le tombe scaligere Giovanni della scala ha uno stemma esattamente uguale a quello di Bartolomeo vedete con l'aquila sopra la scala perché Giovanni porta l'aquila sopra la scala ce lo dice lui nella epigrafe che accompagna la sua tomba dice qui giace Giovanni della stirpe della scala al quale è la domus antiochena illustrat genus la stirpe d'Antiochia d'Antiochia rende lustro alla famiglia di Giovanni della scala cioè quella a cui appartiene anche Bartolomeo perché scrive queste cose Giovanni della scala perché richiama la stirpe d'Antiochia ma perché Bartolomeo il nonno Bartolomeo aveva sposata Costanza d'Antiochia discendente di Federico II d'accordo? quindi perché Bartolomeo si era freggiato dell'Aquila sopra la scala perché aveva sposato una discendente di Federico II e l'unico ramo degli scaligeri che porta l'Aquila sopra la scala è quello di Bartolomeo e quindi di Chichino e quindi di Giovanni non esistono altri non lo usa il boino e non lo usa Can Grande da quello che sappiamo noi oggi allora la Tempia Rossa si riferisce alla battaglia della Lastra come pensano tutti niente affatto perché nel 18 marzo del 1303 quindi più di un anno prima della Lastra c'è un'altra battaglia cruenta in cui i fuoriusciti fiorentini subiscono una sconfitta sanguinosa da parte dei neri di Firenze è la battaglia di Castelpulicciano guardate i numeri di questa battaglia i fuoriusciti avevano 800 cavalieri e 6.000 afanti i fiorentini 1300 cavalieri e 15.000 afanti erano due eserciti grossissimi ebbene nella battaglia di Castelpulicciano i fuoriusciti con i fuoriusciti fiorentini subiscono una sconfitta atroce siamo sicuri che quando Dante parla della Tempia Rossa allora si riferisca alla Lastra niente affatto molto probabilmente Dante non fa riferimento alla battaglia della Lastra ma fa riferimento come molti commentatori antichi sanno alla battaglia di Castelpulicciano quindi Dante non si separò dai fuoriusciti fiorentini prima del 20 luglio del 1304 ma prima del 18 marzo del 1303 ed ecco perché poté essere ospitato a Firenze d'accordo da Bartolomeo della Scala precisamente dalla primavera del 1303 fino al marzo del 1304 quando Bartolomeo morì e Dante in virtù di questo tentativo di pacificazione decise di tornare a Verò di tornare in Toscana quindi quando Pietro Alighieri ci dice che l'ospite di Dante è Bartolomeo della Scala ci sta dicendo una cosa che conosce benissimo e quando Dante fa riferimento all'Aquila sopra la Scala sta parlando di una cosa molto precisa cioè il ramo della famiglia di Bartolomeo della Scala e la Raldica ci dà piena conferma di questo dato siamo noi che compiendo una ricerca poco approfondita ci concentriamo su una battaglia che è la battaglia sbagliata invece di andare a prendere la battaglia giusta con la quale tutto ritorna perfettamente il cerchio si chiude allora davvero possiamo dire che Dante mente che Dante mistifica i dati del suo passato raccontandoci una storia falsa perché in quel momento è costretto a scendere a compromessi se i compromessi li abbia fatti noi non possiamo saperlo quello che secondo me si può dire è che dai dati in nostro possesso in questo caso non possiamo certamente attribuirgli nessun tipo di compromesso perché i dati storici che abbiamo parlano in modo molto lineare di una vicenda molto chiara quindi prima di attribuire a Dante diciamo così un comportamento incoerente un comportamento che diciamo rivelerebbe da parte sua una mistificazione una rivisitazione come scrive Barbero del suo comportamento secondo me è molto più opportuno ripercorrere i dati che ci offre la storia ma che ci offre anche l'erudizione quindi anche gli aspetti della raldica tutte le notizie che possiamo raccogliere insomma è bene compiere una ricostruzione filologica a 360 gradi e solo dopo aver compiuto questa ricostruzione con i mille dubbi che sempre sorgono quando si fanno queste ricerche provare ad emettere un giudizio storico sul personaggio io credo che in realtà quello che il ritratto che emerge di Dante dalla lettura delle sue opere non sia il ritratto di una un ritratto diciamo così non siano dei dati che ci consentano una lettura così riduttiva della sua persona mi pare che quello che emerge dalle verifiche storiche spesso confermi invece una capacità di lettura del reale a parte di Dante che va oltre le capacità di lettura di qualsiasi uomo del medioevo e prima di ridimensionare questo suo tratto diciamo così così importante della sua personalità che traspare da tutte le sue opere penso che noi in ogni caso abbiamo il dovere della verifica ecco nel mio libro ho provato vi ho fatto solo un esempio a mettere a frutto i dati della ricerca filologica cercando di restituire quello che secondo me la documentazione permette di restituire al poeta e io ho concluso anzi vedo che sono andato anche troppo lungo la ringrazio poteva anche andare avanti per quanto mi riguarda altre tre ore che sarei stata ad ascoltarla proprio affascinata grazie mille veramente molto molto interessante ma io vabbè faccio io parto io con una domanda poi chiunque desideri fare una domanda attivate il microfono poi io cerco di capire in modo metto la galleria così se qualcuno alza la mano ecco posso dare la parola la mia domanda è questa ma quanti non so se sia una domanda corretta però quanti altri esempi tipo questo della battaglia della lastra della battaglia di Castelpulicciano di queste cose che non coincidono si possono trovare suppongo nella commedia ce ne saranno moltissimi altri e penso che sia una gran bella soddisfazione mettere tutti bene i puntini sulle i o laddove si può beh adesso ne cito uno non ce ne sono tantissimi ma ce ne sono alcuni Guido da Montefeltro visto che ve l'ho chiamato in causa questo cambio di giudizio nei confronti di Guido da Montefeltro sembrerebbe è stato spiegato da alcuni studiosi appunto come un cambio di prospettiva politica quindi Dante è che per vendersi anche qui uso un linguaggio ma cerchiamo insomma di cercate di perdonarmi per vendersi come Guelfo Nero piazza all'inferno il Ghibellino Guido da Montefeltro in realtà quello che noi sappiamo è che letta in questi termini questa lettura sarebbe insostenibile perché di fatto il ritratto che Dante fa di Guido da Montefeltro sarebbe nel convivio un ritratto che risale già nel 1306 quindi anche dal punto di vista degli schieramenti politici non sarebbe difendibile questa posizione ma soprattutto noi sappiamo che in realtà la vicenda di Guido da Montefeltro e del tradimento di Guido da Montefeltro del famoso consiglio frodolento che avrebbe dato al Papa Bonifacio VIII non è affatto un'invenzione di Dante come qualcuno vuole far credere ma è una cosa che si trova ampiamente raccontata in un volume in un'enorme cronaca scritta dal cronista Riccobaldo da Ferrara proprio estesa pochissimo tempo prima che Dante negli stessi anni diciamo in cui Dante passa nel Veneto tra Padova Verona eccetera è terminata poco tempo prima che Dante cominci a scrivere la commedia quindi il racconto di Guido da Montefeltro in buona parte direi per la quasi totalità tranne la soluzione preventiva io finora t'assolvo dice Bonifacio VIII quindi tu fai pure quello che devi fare tanto io ti assolvo preventivamente e quello finisce all'inferno a parte il tema della soluzione preventiva tutto il resto è già nella cronaca di Riccobaldo da Ferrara quindi Dante non si inventa proprio niente questa storia l'aveva letta evidentemente aveva prestato credito aveva ritenuto di dover prestare credito e aveva rivisto la sua posizione nei confronti di Guido da Montefeltro se noi andiamo a leggere le opere storiche di Riccobaldo da Ferrara ci accorgiamo che ci sono almeno cinque o sei episodi di tutta la commedia concentrati soprattutto tra la seconda metà dell'inferno e l'inizio del purgatorio che per i quali l'unica fonte disponibile a noi oggi non significa che non ne troviamo altri ma l'unica fonte che racconta queste stesse cose è guarda caso ancora l'opera storica di Riccobaldo da Ferrara per esempio il famoso racconto di Martino IV non so se vi ricordate il purgatorio XVIII che mangiava le anguille di Bolsena affogate nella vernaccia non so se ve lo ricordate povero Martino IV ecco questa è una storia che racconta solo Riccobaldo da Ferrara non c'è da nessun'altra parte nessun'altra zona che riferisce questo fatto ovviamente aiuto aiuto professore credo che si sia frizzato tutto quanto vi chiederei sembra che il professore abbia magari qualche problema con probabilmente se noi disconnettiamo un attimo il video si vede che lui ha dei problemi con internet adesso è uscito problemi con internet Chiara scusa non è che lo zoom ci ha battagliato dopo un'ora no 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 assolutamente io ormai cioè non abbiamo più limiti di tempo io imposto sempre di default tipo tre ore quindi no secondo me lui che probabilmente la sua connessione ha avuto qualche scatto perché noi siamo ancora tutti connessi quindi adesso aspettiamo che deve andare a riprendere il link e appena si si riconnette io lo faccio rientrare ecco non credo che se no se mai lo chiamo non so però è proprio il suo internet credo che sia saltato un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci permettono una visione diversa, cioè che Dante abbia trovato da qualche parte delle notizie diverse e si sia ricreduto, magari anche sfruttando certo a scopo poetico questa revisione. Però non una cosa che lui si è inventato di sana pianta per sdoganare, diciamo così, il suo cambio di prospettiva politica. Bene, grazie. Io se c'è qualche di un altro che ha delle altre domande... Sì? Vorrei fare una domanda. Fausto. Sì, prego Fausto. Ciao Paolo. Ciao. Tanto grazie perché ci hai fatto la storia della filologia italiana che nessuno credo di noi conoscesse. Ma a parte questo, volevo chiederti invece di un problema metodologico, cioè come coordinare quello che è il classico metodo storico, quindi la documentazione, la documentazione d'archivio, le storie dei cronisti contemporanei, eccetera. E d'altra parte la filologia, quindi la critica testuale. Tu hai ricostruito molto bene la lettera di Can Grande a Enrico VII, riuscendo a dire poi che sulla base proprio di un confronto del testo della lettera con confronto con testi di Dante, che in realtà è probabile che Dante abbia scritto con la lettera per conto di Can Grande. L'altro, diciamo, a parte la critica testuale, è invece, vogliamo dire, le argomentazioni che quelle di una volta erano della retorica classica, cioè gli argomenti a contrario, le affermazioni perentorie e via dicendo. Ora, che mi pare la parte più fluida delle possibilità di argomentare nella ricostruzione storica. Io ho letto il tuo libro con molta attenzione, devo dire, anzi, è un libro molto denso e spesso ho dovuto tornare indietro per riuscire a ricollegare un po' tutti i fatti, perché è veramente scritto molto bene, ma è un libro complesso. Quindi mi sono posto questo tipo di problema, come si può bene intrecciare queste due metodologie. Sì, grazie. Hai colto il punto fondamentale. Cioè, il libro era nato proprio da questa esigenza che tu hai manifestato e che io allora a questa conferenza dell'Ambrosiana avevo evocato. Cioè, la filologia ha un grosso problema, che era quello che diceva Dionisotti, che i filologi si parlano tra di loro. E tra di loro si capiscono bene, perché parlano un linguaggio un po' tecnico, ma fuori dal gruppo dei 25 lettori, non solo non li capisce nessuno, non li legge nessuno e nessuno si interessa a quello che fanno. Quindi, quando poi esce un libro che vende milioni di copie, la gente è convinta che la verità sia scritta lì dentro. E purtroppo, d'altra parte, se non vanno d'accordo nemmeno i virologi, figuratevi se possono andare d'accordo i filologi e gli storici della letteratura. Quindi la virologia, che ha un tasso di scientificità, forse è certamente più alto della filologia, però insomma, quindi una parte di, diciamo così, dell'incomprensione fa parte, diciamo così, della natura umana e dobbiamo metterla in conto. Però il problema era proprio questo, cioè cercare di offrire gli argomenti filologici, di spiegarli nel modo più chiaro possibile. Faccio un esempio di come si usa, tu hai citato, ti ringrazio, questa questione della lettera che Can Grande avrebbe scritto Enrico VII e dietro cui ho intravisto la mano di Dante sulla base di una certa serie di fonti che vengono citate. Ma prendiamo il caso della tradizione testuale della monarchia. La monarchia, qualcuno sostiene la monarchia, sia stata scritta quando Enrico VII arriva in Italia negli ultimi mesi perché Dante sostiene l'imperatore attraverso questo trattato politico. Questa è una teoria, insomma, che è andata avanti a lungo, sostenuta anche da grandi studiosi, pensiamo a Gustavo Vinay per dire, Vinay per dirne uno, ma mica solo lui. Dopodiché i filologi hanno ricostruito la tradizione testuale della monarchia e hanno visto che il testo della monarchia, nel testo della monarchia, fin dalle origini di questo testo, è presente questo inciso, Sicute in Paradiso, Comedia, Iam Dixi. Dante fa riferimento al canto quinto del paradiso. Ora, il canto quinto del paradiso è stato scritto certamente dopo il 1316-17. Allora, noi dobbiamo arrenderci a questo punto e dire che molto probabilmente la monarchia non è stata scritta per la discesa di Enrico VII, ma è stata scritta dopo, probabilmente per difendere Cangrande nella controversia sul vicariato imperiale contro Giovanni XXII. Il dato filologico, a meno di non pensare che quella frase lì sia stata interpolata, sia stata aggiunta dopo da qualcun altro, che è possibile, ma filologicamente non è probabile, perché è in tutti i manoscritti. Quindi è probabile che sia stata scritta da Dante quella frase. E se è stata scritta da Dante, o ci dobbiamo immaginare la stesura della monarchia prolungata negli anni, e si può anche immaginare, ma ripeto, non è economico, oppure dobbiamo riconoscere che quel trattato lì non è stato scritto principalmente per, anzi, non è stato scritto per Enrico VII, ma è stato scritto per Cangrande. Questo è come la filologia aiuta anche gli aspetti di carattere biografico. Cioè dire che la monarchia è stata scritta cinque anni dopo per una causa diversa, anche dal punto di vista dell'impostazione del commento, provoca delle ricadute non secondarie. Ecco, l'altro aspetto è come si fa a spiegare un dato di questo tipo al lettore non specialista. Come si fanno a spiegare determinate cose cercando di mettere, come dicevi tu Fausto, sul piatto tutti gli argomenti che ci sono, a spiegare quelli a favore, ma anche quelli contro, perché una ricerca seria non si limita a esporre le proprie opinioni e i propri punti di vista, ma cerca di discutere anche quelli degli altri, cercando di rendere, di spiegare le ragioni degli uni e degli altri. Questo è stato lo sforzo più grosso, devo dire la verità, perché Inaudi non avrebbe mai accettato un libro scritto con un linguaggio filologico e giustamente non lo avrebbe accettato. Quindi lo sforzo di scrittura di questo libro, prolungato e una continua revisione, eccetera, è nato proprio dall'idea di scrivere un testo chiaro. Devo ammettere che questo desiderio di chiarezza nacque in prima istanza dal fatto che io intendevo far tradurre subito la biografia in inglese per pubblicarla negli Stati Uniti e quindi mi sono immaginato un traduttore che avrebbe trovato grossa difficoltà con periodi troppo lunghi e ho scritto, seguendo una sintassi, quanto più semplice possibile. Alla fine, involontariamente, questo tentativo che vi assicuro sembrerà strano, ma è stato faticoso perché non siamo abituati a scrivere così, questo tentativo invece ha prodotto una biografia che è stata, o spero che sia, è stata forse un po' troppo ambiziosa, spero che sia utile anche al pubblico di non specialisti, perché forse consente di capire alcune cose che una scrittura più complessa non avrebbe fatto capire. In questo senso l'obiettivo che mi ero posto nel 2017, una conferenza a cui ricordo bene e ripresenta anche tu, Fausto, è proprio quello, è stato proprio quello di, insomma spero sia stato raggiunto, di produrre un testo che possa essere letto da un pubblico un po' più ampio. Allora qualcuno in più potrà anche valutare e comprendere le ragioni della filologia e provare a mettere a confronto la biografia di Sant'Agosto e di Barbero e una biografia che ha un'impostazione invece di carattere diverso. Grazie Paolo. Grazie a te. Se ci sono altre domande? Mi sembra strano, come sempre, che non c'è... Non sono argomenti complessi. Lo farei sempre qualcuno. Forse vorrei dire ancora una cosina piccola piccola. Certo, Fausto. Allora, non so se c'è ancora Paolo, sì. Volevo dire che è vero che come uomo e come politico, se vuoi, Dante era uomo del suo tempo. Noi sappiamo com'era il Medioevo, dove gli ammazzamenti erano continui e la ferocia era totalmente usata come sentimento comune. Però è anche vero che Farinazzo degli Uberti sempre chiudere lì non è stato. Sì, sì, sì. Sì, sì, vi dirò di più. Qui c'è anche una ragione storia, adesso non voglio farla troppo lunga, ma Dante appartiene a un gruppo politico che nella Firenze di fine 200 comincia a proporre come alternativa la vendetta personale che era tipica dei magnati fiorentini. I donati andavano in giro a tagliare i nasi, le orecchie e le teste con la spada per farsi giustizia. Questo nuovo gruppo dirigente fiorentino che esclude le famiglie di antica tradizione fiorentina dal governo cittadino comincia a proporre per la risoluzione delle controversie l'uso della legge, del diritto. Questi portano i lestofanti, gli assassini davanti ai tribunali, che veniva percepito, peraltro, anche come una forma di vigliaccheria, lo sappiamo bene perché Dante poi si autoaccusa, perché non fa le vendette per la propria famiglia. Ma perché? Perché comincia a emergere l'alternativa dell'uso del diritto anziché della violenza privata nella risoluzione delle controversie, che è poi alla base della nostra società, dovrebbe essere alla base della nostra società moderna. Quindi non è solo una questione di grandezza dell'uomo, è un uomo che forse apparteneva a un gruppo di persone che da questo punto di vista stava elaborando un modo diverso di percepire, di concepire anche la società medievale. Non a caso è il periodo in cui nascono i glossatori della scuola di Bologna, no? Ecco, esattamente. La condizione su tutto quello che comporta, no? Il diritto, eccetera, eccetera. Esatto, non lo devo spiegare a te. C'è qualche altra domanda? Mi sentite? Sì, buonasera, buonasera, prego. Sono Paolo Fampadoni, buonasera. Buonasera, buonasera. Noi ci siamo incontrati, credo, una ventina d'anni fa, 25 forse. È soltanto una curiosità, professore, ma circolava voce qualche anno fa che lei avesse trovato un autografo dantesco. Magari. Risponde a verità? No, no. Io proposi un paio d'anni fa di identificare nell'autore di questa lettera di Can Grande della Scala all'imperatore Enrico VII che è conservata in un manoscritto della Nazionale di Firenze. Era una lettera nota, scritta nell'estate del 1312 da Can Grande a Enrico VII, un momento molto delicato perché Enrico stava preparandosi a essediare Firenze, l'assedio finale che poi andò male, come voi tutti ben sapete. Però pochi mesi prima dell'assedio i due logotenenti principali di Can Grande vengono alle mani, sono Werner von Homburg e Filippo D'Acaia e uno cerca di uccidere l'altro. Quindi capite voi i due generali principali di Enrico VII che cercano di ammazzarsi tra di loro. Era un momento delicatissimo. A questo punto Can Grande, che era il massimo sostenitore di Enrico VII e forse il più importante condottiero dell'Italia settentrionale, scrive questa lettera preoccupatissima dicendo guarda che stanno succedendo queste cose, devi assolutamente intervenire a riportare la pace. Questa lettera ha tutta una serie di fonti che, mi sono accorto, tornano in altre opere dantesche in modo speculare. Allora, siccome Petrocchi aveva ipotizzato che nel XII Dante fosse già tornato a Verona, io ho detto, ma secondo me i dati che abbiamo ci fanno pensare che questa lettera possa essere stata, non dico scritta di pugno, ma possa aver avuto dietro come dictator lo stesso Dante. E ho pubblicato un articolo in cui sostenevo quest'ipotesi, adesso sono usciti degli articoli su riviste scientifiche in cui vado avanti con questo lavoro. Naturalmente, siccome il mondo del gossip è abituato, desidera fortemente trasformare in oro quello che magari è semplicemente bronzo o argento, ecco che il fatto di aver identificato in una lettera che si conosceva forse dietro la mano di Dante, ha fatto trasformare questa cosa in un nuovo, non in un nuovo, nell'autografo di Dante. Quindi hanno cominciato a arrivarmi telefonate da tutto il mondo, lei ha trovato l'autografo, e io tentavo di spiegare questa cosa, ma inutilmente, perché o c'era l'autografo o non importava nulla. E quindi in realtà poi la cosa ha avuto molta risonanza, io ovviamente ne ho parlato nel libro, anche perché credo che sia importante che queste ipotesi vengano discusse dagli studiosi, quindi uno le mette in campo, dopo si avvia un dibattito, sarà favorevole chi si raccontrà. Purtroppo nessun autografo, devo dire. Grazie. A voi. Allora, io se non ci sono altre domande, ne faccio intanto una io, perché a me interessa poi sempre molto la grafica, l'illustrazione della commedia. La scelta che è ricaduta per l'immagine di copertina, che è tratta dal manoscritto Yes Thompson, conservato alla British Library, ed è questa immagine di Giovanni Di Paolo. La scelta lei è stata una scelta difficile, è stata una scelta immediata, rappresenta Dante in esilio, viene proprio spintonato fuori in modo brutale, e tra l'altro è un'iconografia, diciamo, non proprio tradizionale, perché non è lui col suo solito mantelluccio rosso e le cosine bianche, ma tutto, la faccio vedere, tutto azzurro. Molto bella. Non ho la scelta io, perché l'avevo usata per una conferenza che avevo tenuto qualche tempo fa, in cui parlavo anche di questi aspetti del Gran Lombardo, e mi era molto piaciuta. E poi mi era piaciuta per il fatto appunto che rappresentava la cacciata di Dante da Firenze, perché, insomma, adesso chi di voi magari avrà occasione di leggere il libro, vedrà che una buona parte, più della metà del volume, è occupato proprio dal periodo dell'esilio. Se voi prendete il libro di Barbero, che mi hanno spedito, che la terza mi ha gentilmente mandato, e vedrete che invece due terzi del volume sono tutti concentrati su Firenze, e questo si capisce, perché lui è uno storico del Medioevo. Ora, ricostruire il Dante Fiorentino per me non rappresentava una sfida particolarmente avvincente, perché i documenti lì ci sono, non sono tantissimi, ma ci sono. Mentre riuscire a ricavare, come si dice, a spremere il sangue dalle rape, i dati, quei pochi dati che si possono ricavare attraverso la lettura delle fonti che abbiamo, rivalutando le fonti umanistiche, un po' come ho fatto io, per il periodo dell'esilio, per me rappresentava, usando la tradizione testuale, pensiamo appunto all'esempio della monarchia che vi ho fatto prima, rappresentava per me una sfida molto più affascinante, cioè una sfida da filologo. E lì penso che il libro mio abbia il tasso di novità maggiore rispetto agli altri. Per cui l'idea di mettere quell'immagine in copertina che in audio è piaciuta subito, l'hanno accolta immediatamente senza battere ciglio, ma in effetti è molto bella, era un po' il simbolo del libro, insomma è un libro dedicato molto all'esilio di Dante. Poi la parte dell'esilio mi ha sempre affascinato, perché l'esilio a quell'epoca era veramente un'esperienza pesante per chiunque. E il fatto che un uomo sia riuscito in quelle condizioni a scrivere quello che ha scritto, davvero per me, a me oggi fa sorgere veramente dei pensieri di grande ammigrazione. Insomma, non si può pensare che Dante, per quanto immerso nel Medioevo, fosse un uomo come tutti gli altri, che guardasse la realtà e la valutasse, la digerisse, la restituisse con le stesse modalità con cui lo facevano gli altri. Non mi pare che quello che sappiamo di Dante corrisponda a questo disegno, insomma. Grazie, grazie. Posso chiedere una cosa, Paolo? Prego, prego, prego. Ciao Paolo, sono Fabio Massimo. Ah, ciao Fabio. Ciao, non ti avevo riconosciuto. Riconosciamo da qualche annetto. Eh, caspita. Tu sì sei esperto di autografi. Ma non ho trovato l'autografo di Dante. Posso tranquillizzare il buon amico Paolo, che ancora non l'abbiamo tra le mani. Senti, no, mi ricollego casualmente, insomma, a questo accenno iconografico che ha fatto Chiara, perché il volume, ti confesso, mi è arrivato con la solerzia di Amazon il giorno di Pasquetta, perché ovviamente loro lavorano, li fanno lavorare, ahimè, insomma, sono uno dei corresponsabili sfruttatori dei poveri. Quindi mi è arrivato ieri mattina, perché non l'ho ancora letto, non l'ho ancora guardato. La mia prima attenzione, visto che il filo del discorso, e poi me l'hai ribadito adesso, era quello di ricostruire gli anni dell'esilio, è rispetto a questo manoscrittino che, insomma, un po' di anni fa ritrovai, cioè l'Ufficiolo di Francesco da Barberino. L'Ufficiolo di Francesco da Barberino è un manoscritto che sicuramente tu menzionerai, citerai, o comunque citerai la postilla barberiniana, attesta una conoscenza certa e sicura, perché erano poi esule della stessa parte politica tra Francesco Barberino e Dante, nei primi anni del Trecento, in zona tra Padove e Marca Trepigiana. La cosa curiosa è che l'Ufficiolo contiene anche, ma questo in realtà, gli storici poi della letteratura, ma in parte gli storici dell'arte, l'hanno un po' sottovalutata, questa immagine, a un certo punto, del limbo, molto, molto, molto aderente ai versi danteschi, che conosciamo bene, dei primi canti dell'Inferno, nessuno ricordo se è Inferno 4, Inferno 6, insomma, della raffigurazione del limbo. Quindi la mia domanda è questa, secondo te non ritieni, presumo, insomma, e anche in parte retorica, che anche il supporto di storici dell'arte debba essere incluso nell'orizzonte di indagine che anche tu, insomma, hai sottolineato, che deve essere un orizzonte che parte sicuramente dal testo, e su questo ti do pienamente ragione, ma che poi non possa neanche escludere l'illustrazione, non solo l'illustrazione della commedia, ma di opere che possono essere ritenute vicine o affini all'inturagio dantesco. Adesso il caso dell'Officiole è un caso un po' straordinario, perché un manoscritto di quell'altezza cronologica che sappiamo con assoluta certezza venne composto a Padova tra 1306 e 1308, ci darebbe un indizio chiaro. Però, ecco, su questo poi c'è discordanza, perché poi molti storici dell'arte mi hanno detto, ma no, guarda, quella più o meno è l'immagine del limbo che tutto il Medioevo ci tramanda, quindi non c'è nulla di originale nella raffigurazione del fuoco e delle anime attorno. Forse era soltanto una mia suggestione quella di ritrovarci invece una citazione dantesca così esplicita e che oltretutto consentirebbe di datare quei primi ganti della commedia al 1306-1308 in un momento molto alto. Ecco, non so se più o meno, non era tanto una domanda, ma era un'osservazione, un allargamento di campo anche dagli aspetti iconografici, appunto. No, no, grazie. In realtà non ho affrontato specificamente quell'aspetto, anche se ho parlato ovviamente di Francesco da Barberino. Credo che quello che tu dici sia giusto. Se vogliamo, l'esempio, ecco, è cascato a fagiolo l'esempio dello stemma di Bartolomeo della Scala, perché lì ci troviamo proprio in un campo che è quello storico-artistico-archeologico in cui la competenza dei colleghi che si occupano di arte medievale è fondamentale, perché se non ci fosse stato il volume di Napione sulle Arche Scaligere, oggi nessuno si azzarderebbe a giurare che, diciamo così, quello sia veramente lo stemma di Bartolomeo. È stato fatto un studio molto complesso che ha analizzato tutti gli impianti araldici, cittadini, la storia, le fonti, eccetera, che ci permette con buona certezza di dire che Bartolomeo è l'unico che porta quello stemma lì. Quindi è fondamentale il contributo in questo caso degli storici. E io me ne sono avvalso più volte, tanto che li ho ringraziati i colleghi medievisti, storici dell'arte medievale di Verona, anche nella mia premessa. Quindi la filologia per me è proprio questo, no? Cioè usare tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione, appunto la documentazione d'archivio, la tradizione testuale, l'arte, tutto quello che ci può consentire di raggiungere il massimo grado di probabilità su tutta la linea. Ovviamente il filologo ha competenze che arrivano fino a un certo punto. Io ho lavorato molto sulla storia medievale e quanto ho potuto, ho fatto anche nell'ambito storico-artistico, anche se meno. Il problema è un po' anche quello che dicevi tu, che esiste, diciamo così, una tradizione iconografica che spesso rende, diciamo così, i margini cronologici molto labili e ci impedisce di fare delle ipotesi, diciamo così, spesso rassicuranti. Ecco, quindi in alcuni casi io mi sono trovato in difficoltà. Noi abbiamo lavorato anni fa sul famoso codice di Budapest che veniva datato da Petrocchi della Commedia, veniva datato da Petrocchi nell'ultimo quarto del Trecento. Poi gli storici dell'arte ci hanno detto che quelle miniature risalivano agli anni 40, 45, 50 del Trecento, ma non tutti erano d'accordo. Quando cominciano a esserci questo tipo di oscillazioni, diventa un po' difficile posare mani e piedi su questo terreno, perché finiamo per dare, diciamo così, un'informazione che non ha il tasso di probabilità che dovrebbe avere. E quindi, ecco, sono elementi su cui io... Poi c'è chi, come sai bene, pensa che invece la prima parte della Commedia, almeno un nucleo centrale della Commedia, risalga addirittura agli anni fiorentini e che sia stata in parte ripresa, insomma, è stata un'ipotesi rilanciata da Dante. Io non penso che... Io penso, ecco, per dirla in breve, penso che la stesura della Commedia imponga l'interruzione del convivio. Quindi siamo sicuramente dopo l'estate del 1306, perché la morte di Gerardo da Camino, di cui Dante mostra di essere consapevo nel quarto del convivio, siamo il 26 marzo del 1306. Il testamento di Gerardo da Camino viene reso pubblico il 12 aprile. Secondo me Dante non scrive le cose su Gerardo da Camino prima della fine di aprile, prima di maggio del 6. Quindi, su questo dato anche Giorgio Inglese e altri colleghi sono abbastanza perentori. Non vedo come si possa pensare sotto tutti i punti di vista del contenuto che Dante avesse sulla parte sinistra dello scrittore il convivio e sulla destra la Commedia. mi sembrano veramente due mondi diversi. È un Dante intellettuale e razionalista che cede spazio a un Dante diverso nella Commedia, secondo me. Io il convivio, ecco, il quarto libro è un problema se stante, ma il nucleo del convivio lo riporto a Verona degli anni 3, inizio del 4, per tutta una serie di dati non a Bologna, come pensano altri, tra il 4 e il 6, a parte che non penso che sia stato a Bologna, però in quegli anni lì, però mi pare, ecco, che siano, è questo un po' che mi ha guidato. Dopodiché, sai, bisogna, come dici tu, tenere gli occhi e le orecchie bene aperti e aggiaminare tutti i dati che possono venire da tutte le discipline. Questo è il punto di metodo che io ho cercato di, così, di illustrare nel libro. Non chiudere nessuna porta, perché se no si rischia di fare come ha fatto Barbero, ma come ha fatto tanti altri, ci si priva di strumenti di informazione importanti che aiutano a dirimere alcune questioni in modo perentorio, secondo me. Questa storia della battaglia di Castelpuliciano la diceva già Zingarelli nella biografia di Dante del 1904 con molta chiarezza, ma quella biografia non l'ha letta nessuno, perché sono 700 pagine e i ragazzi giovani di oggi, io li conosco perché alcuni sono anche i miei allievi, dottorandi, dottori di ricerca, non leggono più Barbie, non leggono più Zingarelli, non leggono più Raina, pensano di non averne bisogno, che è un errore madornale secondo me, perché questi studiosi qui ci hanno insegnato un metodo e molti dei loro articoli sono ancora oggi insostituibili. Se voi vedete nella mia bibliografia tutte le volte che c'è un articolo scritto da Barbie o da Raina o da Parodi che non è stato superato, io non cito la bibliografia recente, io vado indietro direttamente da quel lavoro lì, perché non è stato né smentito né superato, è ancora il punto di riferimento, anche come metodo mi sono sentito di dare questo segnale. Bene, grazie, grazie mille. Grazie, sono le sette e mezza, penso che la gente avrà bisogno di andare a cena. Sì, ma succede sempre quando noi con l'Aldus Club andiamo avanti fino a... no, comunque sentiamo brevemente se c'è qualche altra domanda. Grazie. Presidente Montecchi, voleva dire qualcosa? No, semplicemente ringraziare, per me è stato un ritorno a studi del tempo passato, ecco, perché i maestri che lui ha ricordato hanno avuto modo di conoscere, i Billanovic, Dionisotti, lo stesso Arnaldi, perché erano quelli che erano, lui ha detto, negli anni 60 e 70, gli anni in cui io mi sono formato, ecco in poche parole, anche se poi non ho fatto il percorso filologico ma quello della storia, prima della storia medievale, anzi, della storia medievale vista dall'Ottocento, ecco perché mi occupo di risorgimento e di medioevo, cioè come gli uomini tra 8 e 900 hanno visto il medioevo, ecco che mi ritrovo in molte cose che ha detto, ecco, per cui faccio un ricordo, diciamo, della mia prima formazione, dopo ho fatto vari percorsi e lo ringrazio molto perché ha, credo che l'ultima cosa che ha detto per quello che sono introdotto sia fondamentale, cioè noi dobbiamo, non è solo questione nello studio, nelle cose, del parere su una questione, è una tradizione di personaggi e di ricerche che arrivano e si completano e io credo che la generazione appunto che va mantenuta è quella proprio diciamo del primo novecento che è completamente scomparsa, erano quelli, forse lo sa bene Paolo Pellegrini, che erano i cosiddetti filologi puri, il concetto di filologo puri, tra l'altro io personalmente devo dire che gli ho sempre detestati i filologi puri perché facevano parte della nostra costruzione, lui è qui è l'esponente di una tradizione che io credevo sorpassata da tempo cioè cioè in sostanza cioè nel senso che lui si rifà a un tipo di pensiero e di ragionamento che era quello che è stato sconfitto se ho capito bene tra gli anni 20 e 30 cioè in sostanza quello ed è questo che mi stupiva proprio la parte iniziale che ha fatto così un po' astratta sembrava astratta e a me è apparsa proprio importante fondamentale e fa piacere vedere dei giovani che io ritrovo con lo stesso tipo di impostazione dei problemi che avevano quelli che considerava i maestri non della generazione prima ma della generazione precedente cioè è la tradizione io credo che sia molto importante che ha avuto come diciamo esponenti che l'hanno portato al trionfo Dionisotti Villanovic eccetera ma che ha avuto origine in un momento diciamo in cui erano scomparsi non c'era nessuno cioè questi qui hanno ripreso una tradizione e fa piacere vedere che questa tradizione che va avanti credo che la bellezza anche dell'incontro il tipo cioè il collegare il dato biografico minimo con quello che è la lettura generale io credo che sia questa la cosa bella che in sostanza che ci ha fatto passare un'ora e mezzo piacevole ecco e il mio solo è solo per ringraziare penso anche a nome degli altri soci grazie di tutti ecco questo non ho letto il libro ma mi prometto di leggerlo grazie molto a voi grazie va bene direi che se non ci sono più altre domande io la ringrazio veramente moltissimo grazie a voi interessante anche illuminante proprio questo metodo di studio così diciamo puntuale ecco che secondo me è un po' in questo mondo dove ognuno spara un po' a caso senza avere senza documentare niente è un po' rinfrescante invece vedere qualcuno che va a scavare e riprendere le fonti la ringraziamo tantissimo e saluto tutti quanti e ci vediamo al prossimo appuntamento allora grazie a voi grazie a tutti gli amici che sono venuti buonasera arrivederci bocca al lupo arrivederci grazie grazie buona serata a tutti tutti grazie